presentati ciao mi chiamo Cristian Brunetti ho 26 anni e abito in un paesino della provincia di Lodi cosa fai nella vita? faccio il barman hai mai partecipato a un casting? si, ho partecipato a due casting qua alla corte lombarda uno per la fiction dei fratelli benvenuti e uno per il provino del grande fratello ti sei mai esibito in pubblico? no in pubblico mai perché sono abbastanza timido diciamo hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? no mai a parte quelle comparse per la fiction dei fratelli benvenuti se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? ma non so mi piacerebbe magari o presentare o magari partecipare ad un altro film magari con qualche altro ruolo magari non una semplice comparsa invita il pubblico a corte live allora buonasera ragazzi benvenuti a corte live dove questa sera si esibiranno i più cliccati di youtube passo subito la parola al nostro primo concorrente che ci canterà una bellissima canzone fai un appello al pubblico per farti votare allora cosa posso dire se non sapete cosa fare capitate su youtube e vi capita il mio provino non dovete fare altro che prendere il mouse cliccare su mi piace e votarvi grazie ciao